Sì, ripartendo dal segno del sagittario, una giornata interlocutoria, devo dire questa, in cui magari sarete alle prese con problemi burocratici, noiosi, di quelli che alla fine vi faranno perdere un sacco di tempo e che magari poi vi lasceranno anche un po' con un palmo di naso o con un pugno di mosche, nel senso che questa è una giornata in cui sarà difficile venire a capo di alcune situazioni, quindi magari le decisioni più importanti sarebbe il caso di rimandarle. Questa è una giornata ideale per chi deve far luce su problemi che sono spuntati all'ultimo momento e possono essere anche, diciamo, tra virgolette un po' misteriosi. Perché è capitata questa cosa? Andate fino in fondo, indagate, questa è una luna che mi permette proprio di far luce rispetto a certi problemi che possono riguardare anche la vita di coppia, perché c'è stato uno screzzo, un litigio, perché il comportamento del partner vi ha lasciato così un po' interdetti, è una luna che vi permette di fare chiarezza su tanti argomenti, ma voi dovete avere la forza di andare a ricercare le motivazioni fino in fondo, agendo in profondità. Andiamo al segno del capo.